Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer.com Ragazzi, oggi vi spiego, anzi, mi domanda perché sto facendo questo video? Beh, innanzitutto, ieri stavo guardando una serie tv e mi si bloccava perché stavo scaricando Rainbow Six Siege Quindi, lo stavo scaricando, quindi andava a 12 MB al secondo, più guardando la serie tv si bloccava Quindi, cosa ho fatto? In questo tutorial vi spiego come utilizzare il limite di banda larga della vostra connessione sui launcher oppure da un'altra parte per scaricare giochi Ok? Va bene Allora, iniziamo subito a capirci un po' meglio, ad esempio, se metto riprendi, come potete vedere, il massimo che riesci a fare è 7.4 MB al secondo Perché l'ho impostato io, ok? L'ho impostato io Quindi, se adesso vado su impostazioni, download, limiti, beh, il limite utilizzo banda è 8 MB al secondo, ok? Io adesso metto infinito, va bene, infinito Torno su download, riprendi Da 7.7, 8.1, 8.6, arriviamo giusto giusto a 12 MB, è sicuro 12 MB Ok? Quindi, ragazzi, se state, non so, guardando un film, una serie tv e state anche scaricando un gioco Quindi vi consiglio di impostare il limite di banda larga oppure mentre state giocando a un gioco molto pesante State scaricando un altro gioco da un altro launcher Vi consiglio di usare questo metodo, ok? Quindi, ragazzi, un breve tutorial molto semplice Cioè, molto... è molto utile perché mi è venuta questa bellissima idea in mente E ho voluto portarla così, sul canale Quindi, se questo video ti è stato utilissimo Se... ti ha anche interessato abbastanza Lasciate like al video e iscrivetevi al canale Quindi, vi saluto, ragazzi, ciao!